Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi vi porto un souvenir digitale davvero interessante. Sapete bene che i souvenir digitali sono tecnologie, software, applicazioni, contenuti, roba che viene dal mondo digitale, che possiamo portarci a casa o nel nostro ufficio, se la vogliamo dire così, possiamo portarlo per migliorare la nostra vita e il nostro lavoro di tutti i giorni. Sono a volte cose molto piccole, molto semplici, ma capaci di fare nel loro piccolo la differenza. E non ti nascondo che sono stato parecchio titubante per parlarti del souvenir digitale che ti sto a presentare. Perché il souvenir te lo immagini in una robina piccola che puoi mettere in valigia, una cosa bella da condividere. Quello che invece ti sto per presentare è grande quanto un elefante. È un sistema enorme intorno al quale c'è un universo. E te ne presenterò oggi una parte, una parte piccola ma super efficace. E poi magari in futuro avrò altre occasioni per parlartene perché è tutto un universo da scoprire. È un qualcosa che ha a che fare con l'inbound marketing, il nuovo tipo di marketing, il marketing che non spinge, il marketing che è focalizzato sul farti trovare dai tuoi clienti e dai tuoi potenziali clienti al posto giusto nel momento giusto. E in quel punto offrire il loro valore attraverso i tuoi prodotti o ancora prima portarle a te attraverso il valore dei tuoi contenuti. Questo è l'inbound marketing. E tra poco scopriremo un souvenir digitale capace di portare tutta la potenza dell'inbound marketing in maniera semplicissima, senza fare corsi, approfondimenti, senza saperne nulla di marketing o di inbound marketing nella nostra pratica quotidiana, nel nostro processo di marketing, nel nostro processo di vendita, all'interno delle nostre relazioni con la community, le persone che ci girano intorno. Prima però voglio ricordarti che strategiadigitale.info è il luogo dove ci troviamo online e dove c'è tutto, dove ci sono gli extra, per esempio, di strategia digitale. Proprio ieri ne ho pubblicato uno, ho pubblicato un'intervista che mi ha fatto Andrea C. Raulo, il creatore di Passione Podcast, e l'ho pubblicata in versione integrale solo per i finanziatori di strategia digitale. Ma trovi anche la nostra applicazione, la possibilità di vedere tutti i souvenir digitali del passato, di vincere un libro ogni settimana. Insomma, ragazzi, facciamola breve. Venitemi a trovare su strategiadigitale.info e ora, bando alle ciance, perché è arrivato il momento di presentare il nostro souvenir digitale. Il souvenir digitale. Il souvenir digitale. Sto parlando di HubSpot. HubSpot è il software che ti permette di fare inbound marketing. HubSpot è un brand ormai praticamente monopolista nel mondo dell'inbound, perché se è vero che l'inbound è di per sé una metodologia e all'interno del cappello dell'inbound marketing rientrano tante discipline più specifiche, come per esempio il content marketing, o la lead generation, o l'email marketing, o la social media intelligence. Ci sono tante micro discipline che sono aggregate sotto il cappello dell'inbound marketing, che è una nuova visione del marketing, non basata sulla pressione che noi mettiamo sui nostri potenziali clienti o sull'andare a cercare gente alla quale vogliamo vendere i nostri prodotti. Insomma, prima del mondo digitale, c'erano i venditori che andavano in giro nelle piazze, signore è arrivato la rotina, signore vendiamo questo, vendiamo quell'altro. E in fondo, dalle vetrine dei negozi che tentano di attirarci con le loro luci, i loro colori, tentano di portare dentro il cliente, magari distogliendolo dalla passeggiata che sta facendo, o dal suo percorso, sperando che questo cliente entri nel loro negozio. Oggi, con il digitale, abbiamo la possibilità di andare a renderci presenti per il nostro potenziale cliente, a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, attraverso il digital, ma soprattutto nel momento giusto. C'è un momento, che è il momento in cui tu hai bisogno di qualcosa, in cui la tua testa clicca. Per esempio, io l'altro giorno ho ordinato un estrattore e il percorso che mi ha portato a ordinare questo estrattore è stato lungo. Allora, una volta ho preso un estratto anni fa a casa di una mia amica, poi ho cominciato a prendere degli estratti la mattina mentre scrivevo un mio libro in un caffè qui nella zona dove vivo a Roma, poi ho sempre più apprezzato gli estratti in ogni occasione, poi a un certo punto mi sono detto beh, mi piacerebbe ridurre la quantità di caffè che prendo ogni giorno. E visto, dopo che ho letto un libro sulle abitudini di Charles Duig, la dittatura delle abitudini, del quale vi ho parlato anche in passato, ho visto che il prendere il caffè era per me un piccolo rito legato a un'abitudine, cioè il cercare la carica prima di affrontare un task, un certo tipo di lavoro, ho detto, bene, cambiamo la routine, cioè il trigger, il momento in cui mi scatta il desiderio del caffè è devo affrontare un lavoro per il quale ho bisogno di energia. La routine era prendere un caffè e la gratificazione era quella botta di caffeina, il sapore del caffè è un qualcosa di buono quando inizi a fare un lavoro e quindi hai la possibilità di affrontarlo in maniera più energica. Mi sono detto, come faccio a sostituire questo caffè? Beh, potrei farlo con un estratto, un estratto che oltre a non avere caffeina e ad avere tante vitamine estratte dalla frutta e dalla verdura è anche molto piacevole dal punto di vista del gusto. Ti dà questa botta di zuccheri estratti dalla frutta e dalla verdura che hai appena scelto, per cui ho cominciato a cercare online informazioni sugli estrattori e a un certo punto ne ho focalizzati alcuni, ho cominciato a pensarci, ne ho parlato con mia moglie, ho sentito qualche amico e alla fine ne ho acquistato uno. Allora vediamo che non è che se io vendo estrattori posso mettere il mio negozio e sperare che la persona entri perché in tutto questo processo ha aggiunto anche un passaggio che è stato identificare che io sono il negozio di estrattori. Se io sono in grado di intercettare la ricerca di informazioni delle persone che magari cominciano a cercare qual è la differenza tra estratto e centrifuga o quali sono le migliori ricette per creare degli estratti, comincio a intercettare questi interessi, a offrire valore attraverso dei contenuti, delle ricette, delle spiegazioni, l'illustrazione dei migliori modelli di estrattori a prescindere da quello che vendo io o degli criteri per scegliere un estrattore, il numero di giri che deve fare la mola per estrarre il succo, bene, se appunto porto valore in questa fase qui in maniera automatica sarò lì presente quando Giulio deciderà di comprare un estrattore e sarò pronto a offrirgli il mio prodotto e il mio prodotto sarà fuori dalla competizione perché non sarà solo una questione di prezzo. Come dice il mio amico Paolo Pugni, se entri nella guerra dei prezzi hai un problema perché tendenzialmente sarai tanto più competitivo quanto il tuo prezzo è basso e però sarai anche tanto meno sostenibile quanto più il tuo prezzo è basso, avrai meno profitto. Al contrario, un modo per tirarsi fuori dalla guerra dei prezzi è creare valore. Allora, una prima parola chiave dell'inbound marketing è proprio il valore. Questo strumento che ti presento oggi, questo souvenir digitale, ti permette senza saperne nulla di inbound marketing, cioè semplicemente se ti piace questa idea di stare sulla palla nelle relazioni che hai con le persone, ti permette di avvicinarti all'inbound marketing con uno strumento che ti può aiutare anche se tu non fai inbound marketing. Uno strumento che ti può aiutare semplicemente se tu vuoi mantenere delle relazioni con delle persone in maniera efficace. Tant'è vero che io ne ho parlato qualche tempo fa con un piccolo tutorial fatto insieme al mio migliore amico Tommaso che sta impegnato nella ricerca di una nuova posizione lavorativa e gli ho fatto vedere come utilizzare questo strumento per la ricerca di lavoro, quindi non per le vendite, per il marketing, semplicemente per la ricerca di lavoro quando in realtà il prodotto è lui stesso nel momento in cui cerca una posizione lavorativa. La seconda parola chiave dell'inbound marketing sono le persone, perché questa nuova visione mette al centro la persona. Tutte le persone anche quando si relazionano con i brand o hanno bisogno di prodotti si relazionano con altre persone, vogliono parlare con altre persone. Proprio ieri ho pubblicato sul canale di Strategia Digitale su Telegram, telegram.me slash strategia digitale una immagine dell'email di un commerciale col quale sto dialogando per il noleggio a lungo termine di un'auto. Allora, quando io vado a scegliere se noleggiare l'auto con Arval, con ALD Automotive, con Pinco, con Pallino, cosa mi influenza molto al di là del prezzo, delle caratteristiche del servizio? Mi influenza molto la persona con la quale parlo. Se la persona con la quale parlo mi ascolta, mi aiuta a comprendere, mi accompagna per mano e sento di essere in qualche modo importante per lei, una piccola differenza di prezzo o una grande differenza di prezzo o una caratteristica in più o in meno, sarà un aspetto secondario. La persona e la relazione con la persona conta moltissimo. Per cui, tra valore e persone, andiamo a scoprire insieme lo strumento di HubSpot. Le funzionalità delle quali ti parlo sono funzionalità totalmente gratuite perché HubSpot, del quale ti metto il link nelle note dell'episodio, ha una versione gratuita, non un trial, ma con funzioni limitate rispetto alla completa, ma che ti permette comunque di fare tutto quello che ti dirò. In sostanza, HubSpot è una suite che integra strumenti di marketing e di vendita. La connessione tra il marketing e la vendita è un CRM. CRM sta per Customer Relationship Manager. Un software che ti permette di gestire i contatti, le persone, le relazioni con le persone e le comunicazioni con esse. Come entrano i contatti all'interno di questo CRM? Per cui tu vai sul link che ti metto nelle note dell'episodio, ti registri, dopodiché hai una specie di visuale vuota con due contatti di prova e quello che devi fare è portare i tuoi contatti, quelli che ti interessano per la tua attività. Nel caso del mio amico che cercava lavoro erano gli HR e gli Head Hunters con i quali eri entrato in contatto. Se tu vendi un prodotto sono i tuoi potenziali clienti e i tuoi clienti. Quindi scegli tu quali contatti portare dentro e la prima cosa geniale è come i contatti entrano dentro questo CRM perché già immagino che quando ti dico hai un CRM vuoto e ci devi mettere i contatti tu stai pensando Wey Gaudiano, mica ho il tempo di mettermi lì a mettere i contatti sul CRM. Allora, a parte che questi contatti te li puoi importare in blocco, ma la cosa carina è che HubSpot è disegnato per fare entrare i contatti in maniera praticamente automatica. Il primo modo in cui puoi fare entrare i contatti è un form. Quindi, se tu nel tuo sito hai un form o vuoi mettere un form dove le persone lasciano la loro email e il loro nome la loro email il loro nome o il prodotto che gli serve puoi creare generare un form con tutti i campi che vuoi e anzi non solo uno puoi generare tutti i form che vuoi con tutti i campi che vuoi in maniera molto semplice con un drag and drop e averli presenti all'interno di una pagina del tuo sito delle pagine che vuoi quindi puoi avere magari due prodotti e avere per ognuno di questi prodotti un form per richiedere ulteriori informazioni se non addirittura per chiedere di acquistarlo per procedere direttamente all'acquisto allora metti il tuo form sul sito web come si fa a metterlo io non sono tecnico non c'è problema vai a installare per esempio su wordpress un plugin c'è un plugin di hubspot che ti permette di collegarti automaticamente al tuo account e di gestire avere diciamo hubspot dentro wordpress e wordpress comandabile da hubspot in modo da poter mettere i form dove vuoi un'altra cosa un altro modo per portare i contatti dentro è un pop up una specie di pop up configurabile in vari modi come una barra come un vero e proprio appunto overlay che si apre sulla pagina lo puoi fare in maniera molto elegante e carina e questo overlay questa barra puoi anche legarla a delle azioni te la faccio breve se vieni su youmediaweb.com per esempio e provi a un certo punto a chiudere la pagina uscendo fuori con il mouse dalla pagina perché devi premere sulla x del tuo browser ti si apre un messaggio che ti dice ecco perché non hai mai avuto successo utilizzando il digital per il tuo business vuoi scaricare vuoi ricevere dei video che ti spiegano il mio modo di costruire la strategia digitale ok metti qua la tua email e te li mando subito ecco questo è il classico meccanismo di lead generation la cosa carina è che anche se non sai fare landing page non sai fare niente di particolare ma ti basta avere un lead magnet cioè un prodotto un file un video una roba di approfondimento in più che vuoi dare come primo passetto informativo per chi viene sul tuo sito per esempio sul sito che poteva vendere gli estrattori magari uno di questi pop up o bar insomma uno di questi cartelli informativi per la lead generation mi avrebbe potuto dire sai qual è la differenza tra un estratto e una centrifuga oppure vuoi bere meno caffè oppure vuoi imparare a scegliere il tuo estrattore avendo il massimo al minor prezzo oppure sei interessato sai quante ricette si possono preparare con l'estrattore quindi al di là di una di una value proposition di un'offerta a livello di informazione al di là della sua specificità posso mettere uno o più lead magnet che mi permettono di portare le email delle persone dentro il mio CRM facilissimo molto carino ed elegante anche questa finestrella senza sapere nulla di particolare ma magari tu mi dici Giulio ma come io non ce l'ho neanche il sito web uè Gauliano io la lead generation non la so far mica non lo uso io vendo su facebook allora va benissimo lascia stare il sito web e le sue integrazioni conforme pop up che mandano i contatti dentro HubSpot puoi utilizzare l'email e questo lo trovo geniale puoi installare se usi Gmail un'estensione o se usi anche Outlook per il tuo computer oppure su qualsiasi altro programma di posta HubSpot ti dà un piccolo indirizzo email privato che metti salvi tra i tuoi contatti e metti in copia nascosta su tutte le email che vuoi loggare dentro HubSpot quindi mettiamo che io utilizzo un programma di posta stranissimo oppure magari utilizzo Gmail e installo l'estensione di HubSpot mi basta fare quindi a quel punto un click su un pulsantino che vedrò su ogni messaggio e ti mando un'email mando l'email a mario.rossi ghiocciolagmail.com e scrivo ciao Mario magari rispondo a una sua email ciao Mario grazie mille per avermi iscritto e per aver visto su Facebook quello che faccio raccontami esattamente cosa ti servirebbe di fare con una strategia digitale e invio l'email in quel momento tutte le informazioni dell'email quindi sia il testo dell'email sia il destinatario entrano grazie a questo indirizzo che ho messo in copia nascosta o grazie al fatto di aver richiesto di fare il log quindi di salvare questo messaggio attraverso l'estensione di HubSpot per Gmail vado a portare tutto dentro il mio CRM cioè mi ritrovo dentro il CRM una nuova scheda persona un certo Mario con questo indirizzo che ha ricevuto da me una comunicazione un messaggio di posta e all'interno di questo profilo posso aggiungere informazioni infatti passiamo da come entrano le informazioni a come sono strutturate le informazioni sulle persone c'è una autovalorizzazione delle informazioni sulla scheda persona per esempio HubSpot va a vedere se la casella di posta di Mario non era mario.rossi chiocciola Gmail ma mario.rossi chiocciola non lo so franchising rossi punto it HubSpot va a vedere il dominio franchising rossi punto it e raccoglie va a vedere il record nel suo database di tutte le informazioni legate a quel sito anche presi dai social media quindi per esempio ti farà vedere che nella scheda di Mario Mario è associato alla franchising rossi franchising rossi che ha 50 dipendenti informazioni che prende da LinkedIn che ha quel logo informazione che prende dal sito web e che è una società un franchising nel campo food e maverage e queste informazioni vengono automaticamente prese da HubSpot sono informazioni pubbliche che lui raccoglie in maniera intelligente e collega alla scheda di Mario Rossi e quindi l'autovalorizzazione di per sé una gran figata ma puoi anche piano piano migliorare tu la valorizzazione di questi campi per esempio se vai a vedi una foto di Mario magari su Facebook o su LinkedIn puoi prenderla a parte diciamo HubSpot lo fa automaticamente se individua la persona su Facebook o su LinkedIn comunque puoi prendere un'immagine la foto della faccia di Mario e metterla dentro nella sua scheda in modo che ogni volta che vedrai la scheda di Mario vedi la sua faccia lo vedi come persona non come un contatto all'interno di un database la seconda cosa bellissima di queste schede di contatto è che per ogni scheda di contatto tu clicchi su Mario Rossi e ti si apre tutta la cronologia della relazione tra di voi che cos'è questa cronologia ma è molto semplice tutti i messaggi che vi siete scambiati con Mario per esempio per cui hai proprio ordinati su una su una timeline hai la linea del tempo e in questa linea del tempo vedi tutti i messaggi che lui ha mandato a te e che ti ha mandato a lui hai le note quindi cose che tu hai scritto su Mario che magari ti ha detto a voce perché vi siete incontrati o che hai appreso su di lui quindi Mario è intollerante al glutine hai la possibilità di salvare le chiamate telefoniche o addirittura di chiamarlo dall'interno di HubSpot di salvare le chiamate telefoniche o di salvare qualsiasi altra attività mi ha mandato un messaggio Skype e mi ha detto che oltre a essere intollerante al glutine non gli piace il finocchio quindi puoi salvare tante tante informazioni ed è bellissimo questo perché come puoi strutturare una relazione con tante persone se poi ti dimentichi come purtroppo succede le informazioni importanti su quelle persone magari dai Mario vediamoci ti offro un bel estratto al finocchio e un cornetto ma scusa ma non ti ricordi che ti avevo detto che ero intollerante al glutine e che non mi piace il finocchio ah oddio scusa Mario me l'ho dimenticato ecco questo tipo di situazione trasmette delle meta informazioni all'altra persona queste informazioni sono a me di te non me ne importa niente quello che mi dici mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro sicuramente da parte tua non è così perché in realtà ti importa ma devi gestire relazioni con tante persone poi hai tanti altri problemi anche ai quali pensare quindi ti possono sfuggire dei dettagli bene questo software ci va a supportare nel ricordare i minimi dettagli che posso inserire sia a mano sia in maniera automatica lui salva tutte le email che vengono inserite e posso inserire anche da mobile quindi dall'applicazione dalla app di HubSpot che installo sul mio smartphone posso fare il log quindi posso scrivere alla fine della chiamata con Mario mi ha detto che non gli piace il finocchio posso farlo sia da computer che da smartphone e questo è molto importante perché poi molte volte siamo in mobilità e se rimandiamo tutto a quando rientro in ufficio finisce che non facciamo più nulla l'ultima cosa che è importante secondo me delle informazioni sulle persone è che le informazioni vengono presentate da HubSpot laddove ti servono cioè se tu hai un database però poi al di là del tuo database quando Mario ti scrive tra tre mesi devi aprire e leggi un'email devi aprire il database andare a cercare Mario finisce che non lo fai e quindi gli scrivi una bella email e lo inviti a mangiare il famoso cornetto insieme all'estratto di Finocchio al contrario con HubSpot e l'integrazione che fa con Gmail puoi vedere le informazioni accanto alle email cioè quando Mario ti scriverà avrai vedrai lì accanto tutta la sua faccia il suo nome tutte le informazioni che hai salvato su di lui e tutte le conversazioni che hai fatto datate quindi tu sai che l'ultima volta che hai parlato con Mario era il 31 maggio alle 15.46 e vi siete detti che lui è intollerante al glutine quindi vedi le informazioni dove ti servono dove sono più preziose per essere inserite nella relazione nella comunicazione e parliamo arriviamo alla fine alla comunicazione è uno strumento questo che ti sto presentando HubSpot importantissimo per la comunicazione perché ti permette di comunicare in maniera più efficace prima di tutto ti permette di caricare nella versione gratuita fino a 5 template template di email cioè se molto spesso le persone con le quali entri in contatto ti chiedono informazioni sul servizio che offri tu puoi creare una email già pronta con tutte le informazioni anche scrivendo laddove vuoi inserire il nome della persona scrivendo qui metti il nome quando vai a mandare manualmente l'email a Mario puoi precaricare un template e quindi l'email si carica automaticamente già valorizzata con il giusto nome al punto giusto quindi vedrai che il tuo template viene caricato ciao Mario virgola ti dico subito quali sono le caratteristiche del servizio e così puoi risparmiare un sacco di tempo in quelle email che scrivi sempre uguali ai clienti e che magari si avevi anche preso l'iniziativa di fare di crearti un template quindi te l'hai risalvata da qualche parte però ogni volta che scocciatura fare copia incolla andare a controllare che non ti sei sbagliato perché invece di scrivere Mario hai scritto Francesco ecco il template ti dà la possibilità di avere l'email già pronta e di scrivere molto più velocemente alle persone i messaggi di comunicazione ricorrente la seconda cosa bestiale che forse è il punto più bello di HubSpot è che ti permette di differenziare i canali di comunicazione noi tutti riceviamo decine di email non ti voglio dire io in questo momento ce n'ho più di mille non lette nella mia casella di email e allora finisce che in questo mucchio di email ti perdi qualche cosa ti sfugge proprio quell'email importante di quel cliente o di quel potenziale cliente col quale invece dovevi rispondere ed essere tempestivo allora quando un email una conversazione con una persona attraverso l'inserimento dell'indirizzo di HubSpot o il log del messaggio email su HubSpot quando inserisci la persona nel tuo CRM puoi ricevere da HubSpot una notifica a parte quindi tu a parte avrai le notifiche solo delle persone che hai inserito su HubSpot attenzione perché il plugin su Gmail per esempio farebbe il log automaticamente di tutte le email io personalmente l'ho disabilitato e scelgo io quali sono le persone che voglio portare dentro HubSpot quali sono le relazioni che voglio gestire in maniera potenziata e più efficace attraverso HubSpot quindi riceverai delle notifiche a parte ma queste notifiche non arriveranno solo quando Mario ti risponderà alla tua email arriveranno quando Mario riceverà la tua email e la aprirà o quando Mario farà click all'interno della tua email e qui scopri delle cose fantastiche cioè scopri che guardando la timeline Mario la tua email non l'ha letta una volta l'ha aperta tre minuti dopo che gli hai mandata poi l'ha riaperta un quarto d'ora dopo poi l'ha riaperta a distanza di due ore ma questa volta ha fatto click che cosa ha fatto Mario decodifichiamo questo comportamento probabilmente appena l'ha ricevuta gli è arrivata una notifica e l'ha letta da smartphone ha visto che non poteva in quel momento guardarla e l'ha segnata come non letta poco tempo dopo ha avuto cinque minuti liberi perché stava facendo la fila mentre faceva la spesa alla cassa del supermercato allora ha aperto in maniera quasi automatica l'applicazione dell'email ha scrollato e ha aperto tra le varie anche la tua ma la tua aveva già deciso di leggerla dopo in ufficio e quindi l'ha presa e l'ha risegnata come non letta due ore dopo è ritornato in ufficio questa volta davanti al computer ha finalmente aperto la tua email e ha potuto vedere facendo click il link che gli hai suggerito con ulteriori informazioni sul servizio che puoi vendere quindi tu sai qual è il momento in cui Mario ha preso quelle informazioni sai che ha aperto l'email e quindi l'ha ricevuta e poi sai che è andato a vedere quello che gli suggerisci a quel punto tu puoi anche chiamare Mario e avere la certezza che lui quelle informazioni lì le ha avute hai finalmente il controllo questo lo dicevo anche al mio amico Tommaso che cercava di interfacciarsi meglio con i responsabili di risorse umane diceva a volte tu mandi l'email e non sai quando la apriranno e stai lì un po' boh l'avranno ricevuta non l'avranno ricevuta l'avranno vista in questo modo hai molto più controllo sulla relazione perché sai bene quando l'informazione è arrivata a destinazione perché comunicare non vuol dire solo lanciare dei messaggi ma vuol dire prendersi la responsabilità che l'altro questi messaggi l'abbia recepiti e l'abbia recepiti così come glieli vogliamo comunicare e poi al di là di tutte queste notifiche che vengono tutte aggregate all'interno della timeline nella scheda contatto quindi sei in grado non solo di stare lì sempre a guardare notifiche le puoi anche disattivare e le puoi vedere anche filtrare quando apri HubSpot ci sono i task cioè puoi indicare ogni volta che rispondi a un'email ogni volta che apri la tua scheda contatto indicare un task una cosa da fare in una data precisa per esempio Mario potrebbe dirti al telefono guarda si ho letto effettivamente il link che mi hai mandato ma è una settimana pienissima ci possiamo risentire magari martedì la prossima settimana non lo so verso ecco magari la mattina ecco tu puoi in quel momento creare un nuovo task il nuovo task è chiamare Mario tra le 8 e le 9 a quel punto riceverai una notifica automaticamente da HubSpot il martedì tra le 8 e le 9 che ti dirà chiama Mario sei tu che hai indicato che devi fare questa cosa e magari te ne hai dimenticato a me capita spessissimo di rimandare le cose e poi dimenticarmene invece in questo modo stai estremamente sulla palla e riesci essendo estremamente puntuale nel ricontattare il potenziale cliente o il cliente a fargli percepire come per te la relazione con lui è importante non è che ti può rimandare così all'infinito sperando che ti dimentichi della cosa no tu realmente lo prendi in parola e sei presente quando devi entrare in relazione con lui allo stesso modo sarai presente quando dovrai risolvergli un problema legato al tuo prodotto o servizio o andarlo a trovare o chiamarlo per esplorare insieme una ulteriore possibilità commerciale allora questa cosa che ti ho spiegato è solo la punta dell'iceberg cioè è solo la gestione base dei contatti per la quale non serve nessuna conoscenza tecnica se sai come scrivere dentro una buchetta un nome un cognome e un un indirizzo email allora stai a posto perché anche l'installazione delle estensioni l'apertura dell'account è semplicissima e come se non bastasse HubSpot ti mette anche a disposizione una academy che per ora non ti consiglio perché quando tu andrai nell'academy deciderai di annullare tutti gli appuntamenti del mese e di fare solo l'academy hanno una quantità di corsi impressionanti che esplorano tutte le funzionalità di HubSpot sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista strategico siamo arrivati alla fine della nostra puntata bene te l'ho detto questo non era un souvenir era un elefante ma cominciamo a usarlo piano piano approfittando subito del vantaggio che questo souvenir può portare alla nostra vita e al nostro lavoro quotidiano attraverso il digital io voglio ringraziare di cuore i produttori di strategia digitale che consentono a questo podcast di andare in esplorazione ieri ho studiato nell'academy di HubSpot il modulo specifico sull'importazione contatti potendo mettere a fuoco alcuni aspetti dei quali ti ho parlato che sono quelli che possono utilizzare tutti coloro che non sono esperti di tecnologie o che non hanno tempo di dedicare all'approfondimento di un nuovo software bene perché ho potuto dedicare questo tempo perché ho dei produttori delle persone che oltre a finanziare il podcast si mettono anche a disposizione per fare piccoli test per essere loro per primi importati come contatti o per tentare loro di utilizzare HubSpot e dirmi guarda Giulio questa funzionalità non è proprio semplicissima quindi grazie di cuore a tutti i produttori se vuoi diventare anche tu un produttore di strategia digitale e spero che tu lo voglia fare ti aspetto su strategiadigitale.info e grazie anche a Odra Bertolone coautrice del podcast al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it per il sound design ragazzi grazie mille e alla prossima strategia digitale idee novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano grazie mille grazie mille grazie mille